Pedinamenti, messaggi intimidatori, minacce. Un 53enne di Montefusco è stato raggiunto dalla misura cautelare di divieto di avvicinamento alla ex moglie di permanere nel territorio del comune di Prata, Principato Ultra, dove la donna si è trasferita dopo la burra scusa separazione. Il provvedimento, su richiesta alla procura, è stato emesso dal GIP del Tribunale di Avellino. Le indagini affidate ai carabinieri della compagnia di Mirabelle e Clanno hanno fatto emergere l'estrema pericolosità delle condotte messe in essere dall'indagato che è denunciato per atti persecutori aggravati.